Questa sera, come lo scorso fine settimana, siamo intervenuti qui in via della Vasca Navale per controllare il mercato abusivo che da tempo si svolge in questo posto. La settimana scorsa l'abbiamo scombrato e abbiamo impedito di svolgersi dell'attività illicita sia il venerdì notte che il sabato notte. Questa sera siamo intervenuti, stavano cominciando a installare il mercato, ma grazie al nostro intervento e con poi l'accordo del capo clan che ha capito che non è possibile realizzare azioni e attività illecite senza l'autorizzazione si sono allontanati. Successivamente qualcuno ha provato a installare la propria mercanzia qui sul ponte ma siamo nuovamente intervenuti e abbiamo scombrato.